Un servizio di noleggio di bicicletta marina di Ragusa nel periodo compreso tra giugno e settembre. La zona interessata, Punta di Mola, Piazza Malta e Lungomare Andrea Doria, ha decidono una delibera della Giunta Municipale di Ragusa che stabilisce che il servizio in via sperimentale dovrà essere garantito tutti i giorni festivi, compresi dalle 10 alle 22. A carico dei concessionari del servizio, che saranno individuate attraverso un'apposita procedura, si sarà l'obbligo di fornire le biciclette in perfetta efficienza, di sgombrare il suolo pubblico in caso di specifica richiesta del Comune, oltre all'obbligo di rispondere per eventuali danni a cose e persone. Considerato l'ormai prossimo completamento della pista ciclabile a marina, ha dichiarato l'assessore al turismo nella disca, l'amministrazione comunale, nell'ambito della propria autonomia territoriale e anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, vuole appunto avviare in via sperimentale questo servizio di noleggio di biciclette. La frazione balneare ragusana, tra l'altro, rimarca la stessa disca, si presta molto bene per la sua conformazione territoriale all'utilizzo di questo mezzo di locomozione che consente anche di abbattere i livelli di inquinamento atmosferico e acustico e questo a seguito della riduzione del numero dei veicoli a motori in circolazione.